Ecco, sono quattro principi fondamentali della Chiesa come pilastri, uno è la liturgia, uno è la eucaristia, la terza è la caritas e la quarta è la coinonia, che significa riunirsi, fare comunità insieme, qualsiasi persona. Importantissimo questo, grazie Silvio. È stato un incontro con i coreani che un amico cominciava un piccolo ristorante, aveva, dopo volevo cercare uno più grande e cercavano il nome per questo ristorante e pensavano di diversi nomi coreani ma non erano d'accordo e loro sono protestanti molto profondi e a me mi ha chiesto, ma tu magari hai un'idea per il nostro ristorante? Io ho detto, come voi siete protestanti che avete la comunità dei cristiani e il nome è un po' significante anche così, chiamatele coinonia e da questo tempo, da adesso da anni, c'è a Vienna, un ristorante coinonia e dopo ho fatto un secondo coinonia plus che è più elegante e questi due ristoranti sono con questo nome coinonia. Grazie. È bello, no? Bellissimo. Grazie ancora. Senza fare tanto, con povertà si fa, crescono le cose. Grazie.